Il segreto Il segreto, cambia di nuovo l'orario della soap, ecco cosa accadrà a dicembre in Sweden Mediaset ha fatto dei nuovi cambiamenti di palinsesto per il mese prossimo Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato al segreto. Il mese prossimo, dicembre 2017, come tutti ben sanno arriveranno le feste natalizie, quindi Mediaset farà alcuni cambiamenti della programmazione della soap opera iberica In che cosa consiste questa variazione di palinsesto? Nel prosiego dell'articolo leggerete tutte le novità. Il segreto, dopo la fine del GF VIP 2, la soap anticipa di 10 minuti Il prossimo 5 dicembre 2017 andrà in onda la finalissima del Grande Fratello VIP 2, quindi dal giorno successivo, la telenovela scritta da Aurora Guerra anticiperà con la messa in onda Ovvero verrà trasmessa verso le 16 e 10 circa, dopo l'appuntamento del dating show Omini e Donne In questo modo tutti i fan di Cancelletto Il Segreto potranno vedere 10 minuti in più di soap. Inoltre, quest'ultima, durante il Natale potrebbe andare in vacanza per qualche giorno Mediaset, in questo modo, eviterebbe degli ascolti bassi dovuti alle feste. A quanto pare, anche le puntate serali verranno sospese temporaneamente nel mese di dicembre e, con molta probabilità, riprenderanno a agli inizi del 2018 Purtroppo, in questa nuova stagione televisiva, la serie iberica non ha riscosso un grandissimo successo in prime time Sia il venerdì che il mercoledì, ha registrato il minimo storico, non arrivando nemmeno a 3 milioni di spettatori e al 12 di share. Al suo posto dovrebbe essere trasmessa un fiction che proviene dalla Spagna Anticipazioni Il Segreto, ecco cosa accadrà nel mese di dicembre 2017. Per quanto riguarda le anticipazioni delle puntate di Il Segreto che andranno in onda il prossimo mese, ci svelano che Raimundo, dopo essere rimasto sotto le macerie, inizierà a riprendersi. Ricordiamo ai nostri lettori che Lullo ha rischiato seriamente di morire prima della celebrazione del suo matrimonio con Francesca. In quell'occasione è esploso un ordigno posizionato da Carmelo, ma commissionato da Cristobal. L'ex host però perderà completamente la memoria, in più inizierà a comportarsi in modo strano con la Montenegro e i suoi familiari. Nel frattempo Gary Gues minaccerà di fare del male ad Ulpiano, quindi Lell chiederà aiuto alla matrona. I due personaggi del Segreto uniranno le forze per distruggere l'ex militare. Per ulteriori spoiler sulla serie Il Segreto, ma anche sul gossip italiano, cliccate il pulsante segui in alto a sinistra.